Le sorprese mi rendono felice, la mia famiglia, il mio fidanzato, prendere un bel voto a scuola, i miei nonni, queste cose qua, le cose più semplici diciamo, perché ad esempio con la mia famiglia, i miei genitori e il mio fidanzato posso essere me stessa, le sorprese perché comunque fanno sempre piacere, mi fanno sentire importante. La prima cosa è relazionarmi con gli altri, ad accettare i pareri degli altri senza però farmi mettere i piedi in testa, sia dai compagni sia dai professori, ad autocontrollarmi perché ho un carattere molto vivace quindi non è facile, come studio non un granché perché fino alla terza media ho sempre studiato, forse negli anni, in questi anni di superiore mi sono più divertita diciamo, non ho pensato solo allo studio ma anche a divertirmi, con i compagni, ridere e scherzare. Uscendo da qua mi piacerebbe fare un corso di estetista perché appunto mi piace truccare, fare unghie, queste cose qua. Penso che so mettere allegria, so truccare, penso. So fare le polpette, aiutare gli altri, dargli consigli.